ciao ragazzi buongiorno bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video allora è un video questo video sarà un video in collaborazione un video esclusivo per questa collaborazione perché a mio avviso merita l'esclusività un po per la tipologia di prodotto e soprattutto per il motivo per cui ho accettato questa collaborazione allora sto parlando ho già aperto perché ero curiosissima di questa lampada in acrilico 3d creative che mi è arrivata dall'azienda zee young poi qua sotto vi scrivo il nome e ovviamente vi lascio il link in descrizione perché non so se l'ho pronunciata correttamente e in vacanza avevo l'accesso ai dati limitati ho ricevuto tantissime proposte di collaborazione in questo mese di agosto a tante ancora non ho risposto perché non avevo proprio tanta voglia ho deciso di staccare avete visto dei video che avevo registrato prima quindi ho usato il telefono con parsimonia tra l'altro avevo accesso limitato ai dati quindi non volevo neanche sprecarli perché poi quando mi è capitato magari di andare a correre la mattina da sola usavo la musica e sul mio iphone io non ho ancora configurato itunes è ormai è passato un anno e quindi di solito utilizzo youtube perciò quei pochi giga che avevo li ho ottenuti con questo scopo ma a questa collaborazione ho risposto subito tra l'altro ho risposto il 24 agosto dopo una serie di mail e sono tornata ieri che era il 28 agosto che ho trovato il pacchettino nel giardino se andate a cliccare sul link io sono andata stamattina ho visto che con la consegna standard vi arriverebbe il primo settembre oggi per me il 29 agosto quindi stiamo parlando di due giorni lavorativi tre se contiamo primo settembre tre giorni lavorativi se invece fate la consegna express vi arriva domani quindi se come me avete desiderio di fare un regalo e in particolare alla mamma perché adesso ve lo vado a mostrare direi che avete dei tempi insomma consegna ultra veloce quindi nessun problema di forse non arriva arriva o quant'altro allora adesso abbasso l'inquadratura apriamo insieme questa cosa oggetto meraviglioso domani arriverà la mia mamma e quindi la regalerò a lei anche se è talmente bella che vorrei tenerla per me però l'ho presa per lei e quindi finirà nelle sue mani abbasso l'inquadratura e guardiamo il prodotto ok allora cosa contiene la scatola la scatola all'interno a un librettino di istruzioni come potete vedere è una luce notturna acrilica colorata in 3d che viene alimentata con un cavo usb allora cosa c'è dentro dentro c'è questa che altro che non è la base della lampada ha una striscia led all'interno all'alimentatore attaccato direttamente alla base di legno e viene alimentato come dicevo con usb a un telecomando il telecomando a questi tre pulsanti in mezzo c'è il pulsante di accensione una volta accesa la lampada serve per andare a selezionare la colorazione perché non ve l'ho detto ma la lampada ha a disposizione questi otto colori quindi sette colori scusate normale senza luce accesa luce rossa luce verde luce blu luce bianca luce viola luce azzurra e luce gialla e dicevo una volta accesa la lampada fa i sette colori in sequenza se andate a schiacciare il pulsante d'accensione potete selezionare il colore gli altri due pulsanti sono un più e un meno non so se si vedono servono per regolare la velocità del cambio di colori del cambio di colori a led poi all'interno della scatola troviamo ovviamente la decorazione per la base che è questo cuore in acrilico protetto da questa carta che ovviamente va rimossa prima di la parte che ci sta ok vedete entra perfettamente nella fessura la striscia led sotto trasmette il colore nella parte acrilica e ha incisa questa frase la frase nello specifico è chiamo mamma l'amore più puro e incontaminato è al mondo è l'amore materno la più bella voce al mondo è il richiamo della madre quindi bellissimo questi sono dei fiori colorati e le farfalle quando poi la mia mamma arriverà e l'apriamo vi mostro l'oggetto acceso adesso non voglio aprirlo perché è giusto che lo faccia lei visto che è un regalo per lei non voglio aprirlo perché è un regalo per lei